100 notizie brindisi un cordiale saluto ai nostri telespettatori benvenuti a questa edizione della telegiornale che apriamo parlando di cronaca tre persone sono state investite questa mattina a brindisi tre persone che hanno rischiato la vita in differenti punti della città il primo un anziano di 82 anni travolto da un'auto una peugeot 208 condotta da una brindisina di 43 anni alle 9 circa in via cappuccini fortunatamente non corre pericolo di vita la seconda invece una donna di 74 anni che è stata investita in viale Aldomoro da una Fiat 600 condotta da una 73enne mentre attraversava la strada anche in questo caso la signora è rimasta sempre vigile e cosciente infine il caso che sembra essere quello più grave quello che è accaduto nei pressi dell'intersezione fra la strada statale 379 e il cavalcavia di via provinciale San Vito a quanto pare due dipendenti di una ditta che si occuperebbe di autonoleggio presso l'aeroporto del Salento stavano percorrendo l'arteria quando hanno riscontrato un problema all'auto a quel punto uno dei due è sceso per controllare cosa stesse accadendo ed è stato investito da un'auto che nel frattempo sopraggiungeva ad alta velocità il ferito è stato soccorso e condotto in ospedale maggiori informazioni nelle prossime edizioni del nostro telegiornale il consiglio superiore dei lavori pubblici è la questione Edison quella dell'asserbatoio da realizzare nel porto di Brindisi seduta rinviata per incompletezza della documentazione sulla questione è intervenuto questa mattina il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi sentiamo consiglio superiore dei lavori pubblici su Edison seduta rinviata per incompletezza della documentazione si è tenuta oggi l'adunanza del consiglio superiore dei lavori pubblici con oggetto procedimento di autorizzazione all'installazione ed esercizio di un deposito costiero di gas naturale liquefatto nel porto di Brindisi società Edison S.p.a. dal consiglio superiore dei lavori pubblici è stato chiesto il rinvio dell'argomento in una prossima seduta per incompletezza della documentazione in merito ad alcuni punti sollevati fanno sapere da palazzo di città sia per quanto attiene al piano regolatore portuale che alle informazioni necessarie comprendere il rapporto fra l'impianto e la città di Brindisi riguardo l'impatto della movimentazione dei mezzi sono intervenuto ed in qualità di sindaco di Brindisi ho chiesto che siano approfondite anche le ripercussioni dell'impianto sull'infrastrutturazione ferroviaria presente a costa morena est i possibili impatti sulla retroportualità e la zona franca doganale istituita dall'agenzia delle dogane su una proposta di Enel Logistics ha dichiarato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi il consiglio superiore dei lavori pubblici acquisita la mia istanza ha aggiunto il primo cittadino chiederà tutta la documentazione del caso all'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale restiamo in attesa conclude il sindaco della prossima convocazione Ed ora diamo uno sguardo alla situazione covid nella regione Puglia oggi 29 luglio sono stati registrati 11.363 test per l'infezione da covid-19 coronavirus e sono stati registrati 151 casi positivi fra questi 19 riguardano la provincia di Brindisi fortunatamente non sono stati registrati decessi diamo uno sguardo agli altri numeri vediamo quali sono gli aggiornamenti in termini di attualmente ricoverati ad esempio oppure a domicilio 84 sono le persone che sono nelle strutture ospedaliere 1893 invece sono a domicilio gli attualmente positivi sono 1977 e ovviamente dalla situazione covid 19 dipenderà la ripresa anche della regione Puglia e soprattutto quella della scuola intanto ieri è stato approvato il piano regionale per il diritto allo studio nel 2021 e sull'argomento è intervenuto l'assessore regionale alla formazione lavoro e istruzione sebastiano leo che ha dichiarato interventi per oltre 9 milioni di euro per garantire i servizi essenziali intanto sentiamo di cosa si tratta la giunta regionale ha approvato il piano per il diritto allo studio 2021 il provvedimento che prevede risorse a favore dei comuni pugliesi per complessivi 9 milioni 800 mila euro è stato adottato su proposta di sebastiano leo assessore regionale all'istruzione formazione e lavoro si tratta dell'assegnazione annuale di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi previsti dalla legge regionale 31 del 2009 il cui obiettivo è quello di promuovere azioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio un obiettivo prioritario ad esempio nell'ambito delle politiche regionali in materia e viene perseguito attraverso il sostegno degli enti locali per la realizzazione di interventi essenziali come il servizio mensa il trasporto scolastico i contributi di gestione alle scuole paritarie senza fine di lucro ed interventi vari quello dell'approvazione del piano regionale commenta sebastiano leo un momento importante dell'attività istituzionale dell'assessorato all'istruzione la scuola e servizi a supporto del diritto allo studio da sempre hanno massima priorità stiamo lavorando per incrementare sempre più il tempo di permanenza degli studenti nelle istituzioni scolastiche il piano destina complessivamente 9 milioni di euro per servizi scolastici primari nonché 800 mila euro per i contributi di gestione alle scuole dell'infanzia degli enti locali e alle scuole delle infanzia private paritarie senza fini di lucro convenzionate con i comuni per il trasporto scolastico invece i contributi sono stati assegnati tenendo conto delle diverse tipologie di servizio i contributi per l'acquisto dello scuola bus spiega leo comprendono una delle novità del piano regionale per il diritto allo studio del 2021 e al termine di questa edizione del nostro telegiornale ci collegheremo con l'assessore sebastiano leo nell'ambito di 100 notizie il fatto per un approfondimento su questo tema per parlare di scuola per tutti gli aggiornamenti e per capire se e come si potrà rientrare in sicurezza a settembre ora la politica perché la lista civica con diventa un movimento politico in questo modo avremo più peso in consiglio regionale dichiara l'assessore anzi il consigliere regionale scusate alessandro leoci la lista civica con che ha sostenuto michele emiliano nell'ultima tornata alle regionali diventa un movimento politico l'ufficializzazione si è tenuta a bari a villa romanazzi racconti persone valori e visioni questo lo slogan del neonato movimento politico allora sostanzialmente racconto un po la mia esperienza che quella che si è avviata diciamo prima della della candidatura poi ha visto lo sbocco nella mia elezione mi sento rappresentante come il più giovane consigliere attualmente in consiglio abbiamo diciamo che sin dall'inizio c'era questa volontà di confluire poi e trasformare il gruppo consigliare appunto da un semplice gruppo consigliare in un movimento politico la visione in regione credo che rimarrà sempre la stessa però naturalmente quando ci si trasforma in un movimento politico sia anche un'incidenza diversa all'interno del consiglio regionale la possibilità l'abbiamo diciamo rimarcata è quello di dare spazio ad una federazione di civiche per essere supportati diciamo nella continuazione di questo movimento allora parliamo di un confronto sull'area ionico salentina che si è tenuta a francavilla fontana perché un'iniziativa che è stata organizzata da rete imprese villafranca lo sviluppo dell'area industriale ionico salentina e questo è il tema che è stato affrontato a castello imperiale a francavilla fontana durante un confronto organizzato da rete imprese villafranca la rete imprese villafranca nasce in un periodo particolarmente disagevole per il nostro territorio del sud c'è una crisi purtroppo sempre in discesa c'è una pandemia che tra l'altro non ci stava dando tregua gli operatori economici con deficit terribili quindi abbiamo voluto mettere insieme gli operatori per poter tra l'altro fare in modo di poter tra l'altro unire le forze per resistere di fronte a tutto questo disastro del nostro territorio presente anche il primo cittadino di francavilla fontana che si è detto pronto ad ascoltare tutte le proposte della rete e da mettere a disposizione gli strumenti necessari perché si possa dar vita allo sviluppo del territorio mi fa piacere che gli imprenditori spontaneamente affermino che nell'amministrazione comunale di francavilla fontana riscontrano insomma un'attenzione una sensibilità quantomeno un interlocutore serio e sono grato a loro per questa occasione perché è un'occasione ulteriore di confronto si tratta di una sessione di lavori aperta al pubblico seppure nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio per cui insomma in qualche modo diamo conto del lavoro che svolgiamo la sinergia tra gli imprenditori e la ferma intenzione di fare squadra sul fronte comune della ripartenza e della crescita del territorio mostrata dalla rete imprese villa franca è stata accolta nel migliore dei modi sia da confindustria che dalla regione che si sono detti ottimisti e fiduciosi sul futuro prossimo si riparte soprattutto sotto forma di rete imprese e una le reti di imprese in questo momento servono e serviranno ancora di più al nostro territorio italiano anche soprattutto nel mezzogiorno su franca villa nasce una rete d'impresa villa franca con 52 imprenditori 52 imprese che si associano e sono pronti alla progettualità comune io credo che sia una grande soddisfazione insieme si possono dialogando e confrontandosi fare fare le cose ed è questo supportarli supportarli in tutti in tutti i modi ma dall'altra parte raccogliere anche gli stimoli che possono venire dai territori e dalle rete d'impresa sono molto ottimista sul futuro la rete d'impresa deve provare a costruire servizi sinergici deve provare a costruire anche economia di scala servizi e attrattività rispetto al spero il soggetto gestore che andrà che si individuerà per la piattaforma logistica e provare a integrare i servizi per provare a generare uno sviluppo grande successo quindi di pubblico e di contenuti per questo primo convegno della rete imprese villa franca che dalla voce del suo vice presidente vincenzo di castri promette di voler rappresentare un punto di riferimento per il territorio noi abbiamo una missione questa missione che cos'è riunire le migliori aziende ma anche aziende che non riescono ad andare fuori del territorio italiano noi partiamo con queste 50 aziende iniziamo a partire perché se aspettiamo noi perdiamo il treno il treno in questo momento non lo possiamo perdere il calcio partiamo dalla serie c perché la virtus franca villa calcio sta seguendo con interesse il difensore dell'avellino mirko miceli operazione non semplice a causa dell'ingaggio del calciatore ma nelle prossime ore il club biancazzurro proverà un nuovo affondo il brindisi nel frattempo continua a sperare nel ripescaggio in serie d a 100 sport magazine è intervenuto il dg vincenzo visone sentiamo il brindisi dovrà ancora attendere per sapere in quale categoria potrà militare nella prossima stagione l'ultimo consiglio federale ha mischiato ulteriormente le cose e per questo la società biancazzurra ha deciso di rinviare la partenza per il ritiro di campitello ma tese il direttore generale vincenzo visone fa il punto della situazione intervenendo a 100 sport magazine noi l'organizzazione societaria anche l'organizzazione di un gruppo squadra ce l'abbiamo in mente abbiamo fatto dei contatti però è normale che tutto un po fermo perché anche i calciatori con i loro rispettivi procuratori attendono il ripescaggio brindisi in serie d sicuramente a un appello importante stiamo un attimino in attesa certo non ci voleva che il consiglio federale oggi sancisse che gli eventuali ripescaggi al 2 agosto in virtù delle sentenze del taglio questo sicuramente ci ha creato qualche problema adesso vediamo un po perché oggi potevate già avere un primo spiraglio guardiamoci chiaramente oggi potevamo sì io sentivo quello che dicevi tu in studio sicuramente con oggi se tutte cinque se fossero stati cinque ripescaggi sappiamo di qualche criticità in serie d potevamo essere al 90 per cento tranquilli così no perché direttore a quel punto se oggi il consiglio federale avesse ratificato quello che doveva ratificare sarebbero bastate due defezioni giusto esatto bastavano due defezioni quindi uno io so per certo del livorno poi stamattina mi confermavano anche di una calabrese quindi siamo lì poi so del carbonia diciamo che potevamo stare dentro ma adesso qui è rimandato tutto ad agosto è un bel problema in termini di ritiro cambierà qualcosa potreste sì penso di sì infatti già stavo ripetendo un po' alcune cose sicuramente cambierà qualcosa anche perché il campionato comunque inizierà il 19 di settembre la domenica precedente quindi il 12 ci sarà la prima di coppitalia di serie d quindi abbiamo tutto il tempo per effettuare una preparazione adeguata certo cambieranno le date questo è sicuro per la serie d invece vincenzo corvino torna a fasano distanti solo per una stagione sono bastati pochi minuti a vincenzo corvino per decidere di tornare a casa ha firmato per il fasano ha riabbracciato il vito curlo ci è voluto ben poco per per convincermi a tornare a fasano è bastata una chiamata da parte del presidente e nel momento in cui abbiamo parlato forse cinque minuti e gli ho dato subito la mia disponibilità di tornare a fasano e l'emozione nel momento in cui sono andato lì a fasano per per mettere la firma è stata veramente veramente bella perché nonostante già conoscevo tutti e tutto però ritornare è stato è stato emozionante anche perché lì tutti quanti mi vogliono bene e ho fatto una scelta di cuore ha trascorso la passata stagione allo jacovone ha vinto il campionato di serie d con il taranto collezionando 11 presenza e due gol numeri inutili a nasconderlo condizionati da un lungo stop per infortunio ormai per sua fortuna un lontano ricordo fisicamente grazie a dio ho recuperato il ginocchio sto molto bene e mi sto allenando ogni giorno per arrivare nelle miglior condizioni possibili e già da ritiro i numeri con la maglia del fasano sono di spessore per corvino 38 gol realizzati in 80 gare in biancazzurro l'auspicio per nulla nascosto della nuova stagione quello di arrivare in doppia cifra è sempre stato il mio obiettivo ogni anno poi raggiungere l'obiettivo qui a fasano fare 50 gol a fasano secondo me è veramente bello e rimarrei ancora di più magari nel cuore della tifoseria 50 gol con la maglia del fasano nel mirino dunque per far felice una tifoseria a cui è particolarmente legato farò di tutto per far sì che ogni giocatore ogni singolo giocatore dà tutto per questa maglia su da questa maglia domenica dopo domenica anche durante la settimana e prometto che faremo faremo veramente di tutto per far felice la gente sarà una serie di di livello altissimo bitonto cernio della velo si sono già scatenate sul mercato molfette a nardo hanno messo a segno diverse operazioni in entrata il fasano tuttavia pensa solo alle vicende di casa propria penseremo domenica dopo domenica non ci vogliamo dare dei limiti a niente non abbiamo obiettivi prefissati noi l'obiettivo nostro è entrare la domenica in campo sudare la maglia e cercare sempre di portare i tre punti a casa è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale ha curato la parte tecnica Alessandro Colavito restate con noi perché fra pochissimo c'è 100 notizie il fatto parleremo di scuola con l'assessore regionale Sebastiano Leo grazie e arrivederci